ciao giorgio buona serata a te buonasera ai nostri amici che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno certo sicuramente quello che poi di assolutamente di ferita ma oggi prontiamo un tema diciamo che riguarda attualità della cronica attuale che interessa con i con le ucraina con indietro l'occidente tassonocratico gran bretagna stati uniti con la francia anche che stanno fra come al solito il doppio gioco infatti governata dalla famiglia rothschild la francia è costretta per ragioni geopolitiche che la francia segue da circa 300 anni a fare il doppio gioco beh sì 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 questo è vero perché sta perdendo tutte le sue posizioni in africa infatti sono regolarmente e come era ovvio alla cina e alla russia infatti è un fatto sono le potenze emergenti che hanno preso ma il posto di stati che stanno prendendo il posto stati uniti e appunto in gran bretagna e francia diciamo quello che resta delle potenze con l'ex coloniale ormai così no no anche se l'influenza nefasta degli stati uniti sull'europa è tuttora diciamo attuale purtroppo la cui europa fa una fatica enorme a liberarsi di questa oppressione diciamo ecco dopo l'impera sì e manuel toad sì ecco quindi un saluto amico sovoldi ciao flavio e ciao a tutti quanti voi comunque stavo dicendo che stati uniti che ormai tengono in pugno sempre l'europa ma con l'europa fa fatica a ribellarsi a questi poteri trans nazionale che partono dai stati uniti e dalla gran bretagna cioè dalla city di londra in terra la gran bretagna e war street in america dove sapete sappiamo chi è che domina poi gli eventi e chi determina certi eventi non da adesso ma da mai da meno quattro secoli diciamo che la situazione con l'iran che la prima volta risponde a un attacco diciamo così di israele si parla di un attacco combinato di di questo biscotto si parla di qualche finta si parla insomma in rete girano una marea di notizie ma quello che è certo è che israele non può più continuare andare avanti in questo modo e anche se è una degli emirati arabi re di giordania hanno preso posizione a forza israele e quindi contro la causa araba come vedi anche gli arabi hanno la roba d'ogli come tu puoi constatare no attenzione qui bisogna chiarire bene i concetti nessuno ha mai della in quell'ambiente che tu hai detto hai riferito che mai espresso a favore del mondo arabo no l'alleanza tra quelle potenze che è un'alleanza basata sul prezzo del petrolio non poteva essere differente se non che noi possiamo fare una previsione a parte il fatto che la religione degli ex beduini non è la religione degli ex persiani tendiamoci bene sono due cose completamente noi le chiamiamo islam ma sono due cose completamente differenti a parte il fatto che ho detto quelle grandi ricchezze che tu hai citato sono destinate a finire infatti e non so che gioco stiano giocando quelli perché dovrebbero sapere perfettamente che quando finisce il loro potere loro ritornano a passeggiare nel deserto accompagnati da qualche cammello ecco come facevano come facevano prima di essere stati riscattati per interessi specifici dell'inghiterra da lores da rabbia questa è geopolitica chiaro no ma sì certo 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 con l'annullamento di carattere io direi futuristico ma fantascientifico di quelle costruzioni mastodontiche costruite nel deserto che ritorneranno rapidamente a essere deserto beh sì ma molto rapidamente prosegui 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 no no dico la cronaca appunto che dei paesi arabi che ormai questi emilatini c'è del golfo e parliamo di jubai qatar bareng anche le saudite che sono paesi ricchissimi anzi straricchi che non muovono neanche un dollaro a foro dai prestinesi che che sono come alleati di fatto di israele sia una giordania dove giungo notizia giordania che l'opinione pubblica giordana e si è messa nettamente contro il proprio re e quindi può da cioè può darsi che nel trono del questo re di giordania sia in pericolo insomma perché è chiaro che non hanno preso per buona che re di giordania le ossia di giordania appunto ha permesso ehm diciamo gli americani di agire sul suo territorio per per fermare i missili droni che vengono dall'ira anche se questi missili questi droni alcuni hanno colpito e sembra che hanno fatto danni però anche qui vedi c'è un mistero cioè i danni non si sa quanti ne ha fatti non lo diranno mai no mai c'è tu c'è un mistero che addirittura si dice che abbia intercettato il 99 per cento di queste cose ma mi sembra non so cioè mi sembra una presa per i fondelli detto francamente e c'è che addirittura parla del biscotto cioè una combina tra una parte e l'altra per me adesso ma è qualcosa di poco poco molto poco chiaro credo che dovrebbe quantomeno qualcuno dovrebbe far luce su questo evento perché per la prima volta un paese anche se non è non è arabo perdono perché bisogna essere precisi l'iran non è un paese arabo l'iran è persiano di arabo soltanto la regione questa questo concetto perché l'unico equivoco è appunto l'islam ma l'islam dei persiani non è quello degli arabi no ecco chiariamole bene le cose direi di sì direi di sì e quello che hai detto è vero è così e l'iran comunque attacca israele cioè israele per la prima volta da quanto c'è subisce un attacco abbastanza serio diciamo da parte dell'iran quantomeno l'iran ha dimostrato che potrebbe far male a israele a prescindere che è stata una combina no si parla anche che l'iran ha preso tutte le contromisure nel caso che israele dovesse rispondere con un contrattacco con la sua aviazione perché non dimentichiamocelo l'aviazione delle forze armate israeliani è superiore a quella iraniana questo non lo sappiamo poi dopo non lo so non lo so l'iran quel che sa dell'iran che ha notevolmente migliorato diciamo il suo apparato difensivo missilistico e tant'è vero che anche la russia a quanto pare ne fa uso quindi vuol dire che tecnicamente hanno raggiunto livelli molto molto alti e quindi ci sono delle cose che purtroppo non le potremmo sapere perché qui c'è la censura bisogna per forza dire che gli uni sono buoni non sono cattivi c'è che sarebbe bravo e i palestiani sono cattivi gli italiani sono cattivi gli eminiti cattivi quando invece in realtà è ben diversa come come ben sappiamo anche perché siamo abituati a questi giochetti no chi perde cattivo chi vince buono poi invece in realtà storica spesso determina il contrario di quello che si vuole far credere come tu pensai allora ovviamente c'è un un enorme diciamo così movimento geopolitico di interessi c'è la cina che di silenziosamente si sta rafforzando militarmente molto di più di quello che si pensa e gli americani insomma si vedono col piatto alla gola perché è chiaro che i cinesi hanno un parco uomini tecnologico e anche di mezzi che a breve supererà gli Stati Uniti c'è un paese che fa mille quattrocento cioè mille quattrocento miliardi e quattrocento milioni di persone passa contro gli Stati Uniti d'America ne fanno trecento venti trecento trenta milioni e capisci e che poi un paese che sforna un milione di tecnici all'anno o meglio un milione di laureati all'anno sforna l'università cinese tra parentesi all'università cinese ha studiato persino un figlio di Berlusconi non a caso tu sai benissimo che alla Cina se ci fu in Europa qualcuno che guardò con molta attenzione incrementando i rapporti fra loro e noi fu un certo Mussolini che aveva previsto alla fine degli anni 20 che la Cina si poteva diventare un paese di una certa potenzialità ci mandò solo il genere ociano si allacciarono il rapporto commerciale ad un certo peso e addirittura ci fu il personale militare dell'aeronautica della legge dell'aeronautica che andò lì a formare l'aviazione cinese allora è importante noi stiamo dicendo l'esatto contrario a quello che dice la fake news ufficiale che circola nel nostro paese allora dobbiamo far vedere le cose documenti ce li abbiamo dovevo già fatto vedere sto libro lo faccio vedere di nuovo certo certo prego prego Giorgio vai pure con comodo portaci tutto quello che hai anche perché fra 20.000 libri che lì fra 20.000 libri poi il resto riviste giornali in cui Giorgio è di otto è intellettualmente egoiste se vogliamo dire così però fa per dire Giorgio perché non lo sapesse è da ben 11 anni che vieni qui senza chiedere nulla a parlare a voi quindi anche a me a noi in modo in modo molto serio e molto sincero e tra l'altro è da anni che divulga informazioni veramente straordinarie inedite che almeno personalmente sono stato d'aiuto come penso anche a voi e questo è il punto ecco lì Giorgio sì Muscino Oriente sì Enrico Garzile esattamente sì 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 bene 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 è un libro che potete vedere cari amici non è uno scherzo è un articoletto di questi coglioni è un libro di circa 1200 pagine a dimostrazione del fatto che ovviamente la nostra geopolitica si stava aprendo all'Oriente e la guerra da noi persa e che ci ha sottomesso al potere anglosassone necessariamente ha troncato questa iniziativa che invece era un'iniziativa chiaramente legata all'indipendenza del nostro paese da cui ovviamente la nostra dipendenza totale non solo culturale ma anche come orizzonte geopolitico è ovviamente legata agli interessi dell'area anglosassone non dimentichiamoci mai che quando parliamo di americani possiamo anche parlare della cultura statunitense ma quando parliamo di geopolitica necessariamente l'area è la stessa quella inglese lo dicono i grandi geopolitici non lo dico io quello inglese e quello americano certo 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 certamente no comunque lo segui pure stavo dicendo in tal proposito della Cina ho detto prima l'Italia ha ciò rapporti molto forti mandamoli anche dei nostri eh migliori piloti aeronauti per per creare dal dal diciamo proprio da zero l'aeronauta cinese e ovviamente i gli inglesi e gli americani come anche i francesi ci ruppano una paniere questo dobbiamo dire addirittura impiantammo in Cina una fabbrica aeronautica che poi fu bombardata dai giapponesi durante la guerra sino cinese del trentasette quindi anche questo eh insomma eh diciamo la Cina anche la Cina come la Russia era un paese molto vicino all'Italia molto mirato all'Italia e che Mussolini l'aveva vista non giusto molto di più che giusto aveva capito tutto con un secolo di anticipo su tutti i coglioni che sappiamo se aveva capito l'importante di questi paesi e quindi anche della Cina con la quale l'Italia ripete negli anni trenta testa di rapporti incredibili sotto tutti i punti di vista addirittura c'era anche un partito fascista cinese che viene chiamato le camicie blu anziché nere blu non so se questo lo sai ma questa è storia e che faceva capo non so all'entourage di Chiang Kai-shek che poi sappiamo andare a Taiwan possiamo dire che non erano descamisato no 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 erano tutti una camicia esatto diciamo che diciamo che l'Italia in Cina negli anni trenta tra la fine anni venta e la fine metà degli anni trenta poi c'è con la guerra eccetera eccetera ma instaurò dei rapporti veramente di grande rilevanza che poi ripeto appunto ci sono stati troncati dall'avvento del potere glosassone esatto proprio così gli americani furono i primi io stamattina ho visto un video che sta in Cina un canale da Zebao si chiama che è stato splendido ha fatto una disamina splendida di fatti ripeto di fatti dove questi fatti fanno capire la grande lungimiranza del governo di Mussolini di quegli anni che capì in che direzione dove andare l'Italia per arricchire diciamo i suoi mercati per avere un certo potere economico politico anche direi di spesa politica ma in questa situazione interviene anche l'India qui ci sono i resoconti molto stretti e molto realistici dei tentativi italiani di agire sull'India capito importantissimo questo certo certo certamente 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 diciamo che anche sull'India certamente ci furono questi rapporti che l'Italia dell'ora aprì una porta importante importante beh non fu un caso che Mussolini mandò in Cina il suo genere ciano anche se poi ciano beh lasciamo stare però mandò il suo genere perché si vede che ci teneva tantissimo a questo paese e qui doveva avere notizie più di prima mano e quindi ci mandò la famiglia cioè il marito di sua figlia Edda che è rimasto lì per qualche tempo a Shanghai anche se poi ci divertì molto ciano conobbe anche la Wally Simpson da cui aveva un figlio sai no quella che poi poi divenne l'amante del reo Edoardo VIII d'Eghilterra poi ci sono qui tutti i rapporti con Bose sì importantissimi beh sì con il Candra Bose anche sì beh sappiamo vestiti niente meno che da Quaroni sì bravo bravo ma Candra Bose era molto simpatizzante per l'asse e in India non è affatto eh disprezzato nel senso antifascista idiota che c'è qui in Italia ma Bose è stato definito il Garibaldi dell'India ah beh non mi meraviglio di questo e queste sono tutte cose che bisogna leggere sono documenti più importanti questa vale un'intera biblioteca ah direi 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 e lì Mussolini dell'Oriente e sono libri questi di grandissima e di 438 pagina dice l'amico Gasper Emanuele che interviene sempre puntualizzando con precisione bravo Gasper Emanuele che mi dà una grande mano con certe sue precisazioni in effetti dice che il libro che hai tu costa di ben 438 pagina quindi sarà sicuramente un libro denso di elenchi di patti dove fa capire ai cazzulli vari e a tutta quella marmaglia che sappiamo noi che si vanta di essere storico quando invece non ha un caccio di storico fa capire insomma com'è la faccenda ecco e vedi che dice qua che Giovanni Trinchiero che bravo saluto dice che Ciano è un rapporto anche con il Sassoon a Shanghai eccetera è affare importante già il padre Costanzo con il mercato del caucciù e hai capito ma quante belle cose le abbiamo fatte qua ah beh sono stati questo è questo questo sono sono fatti che vanno conosciuti per capire bene la nostra storia e anche la nostra storia dal punto di vista geopolitico che l'Italia che viene accuratamente celata sì sì ma tu sai che l'Italia la sua geopolitica è stata tale fino alla seconda guerra mondiale poi dopo di che in Italia dopo guerra ciò politico non si parla più perché il paese è tenuto a guinzaglio dagli Stati Uniti d'America e dei poteri forti che e dall'Inghilterra e beh anche dall'Inghilterra ma più dei poteri forti americani perché poi gli americani che hanno le basi in Europa sono gli americani che contano in Europa la Gran Bretagna come disse Mussolini in tempo sospetto non è né più né meno che lo scudo armato degli Stati Uniti in Europa cioè questo è quello che svolge la Gran Bretagna proprio di scudo armato degli Stati Uniti in Europa e adesso c'è lo scontro questi giorni tra truppe francese e russe c'è stato un grave attacco da parte della Nato contro la Russia in Ucraina dove è bombardato un aeroporto russo in Crimea facendo gravi danni e si parla anche di qualche decina di morti e si parla addirittura che Putin potrebbe essere costretto a usare qualche arma di insomma che è meglio che non la dico perché solo pensarlo è un incubo e parla uno c'è sottoscritto che ha visitato il museo di Hiroshima e in cui quando ho visitato quel museo mi è venuto uno sgomento perché ti giuro lì solo lì tu capisci che significa un bombardamento atomico se tu guardi quel museo c'è un plastico enorme di come era Hiroshima prima del bombardamento atomico e dopo il bombardamento atomico guarda è qualcosa di allucinante ti giuro vieni via con l'incubo da quel museo ci esce proprio un incubo talmente tertale che tu capisci solo lì puoi capire che significa se per caso qualcuno dovesse arrivare a usare quest'arma specialmente oggi che l'anatomica è più scarsa e che almeno 40 50 volte più potente di quella buttata appunto su Hiroshima e Nagasaki prego allora se hai finito io comincio a leggere alcune cose questo è un libro che è stato pubblicato nel 2004 è una professoressa Rita Di Leo dell'Università di Roma bene e vediamo che cosa c'è scritto intanto una frase è importante il castigo per i tedeschi è isolarli è la Germania socialdemocratica di Schroeder che va ignorata il suo governo pacifista che nonostante la crisi economica ha vinto le elezioni con la promessa di non partecipare alla guerra contro l'Iraq la Germania conservatrice è invece super corteggiata quando il 25 febbraio 2003 arriva a Washington Angela Merkel aspetta che chiudo qui capo del partito democristiano riceve un trattamento reale dal vicepresidente da Rumsfeld dalla Rice da Greenspan da alti funzionari del Ministero del Commercio del Dipartimento di Stato da importanti senatori il governo degli Stati Uniti non potrebbe essere più chiaro circa le proprie preferenze su chi dovrebbe andare al governo in Germania quindi il discorto che noi abbiamo fatto prima qualche qualche mese fa è confermato da quello che è scritto qui essendo l'Ucraina stata concepita geopoliticamente come cuscinetto fra la Germania e la Russia esatto tant'è vero che nel momento in cui la Germania è costretta a obbedire agli anglosassoni contro i russi la Germania va immediatamente in crisi la Germania vive un momento di crisi nera che corrisponde guarda caso alla situazione della Germania dopo il primo conflitto mondiale esatto esatto il governo degli Stati Uniti non potrebbe essere più chiaro circa le proprie preferenze su chi dovrebbe andare al governo in Germania cosa significa? significa che quando la Germania ha cercato in questi ultimi tempi di tergiversare c'è qualcuno che ha tagliato certi tubi eh infatti e non potevano essere certi tedeschi no ecco anzi fu anche avvertita che gli tagliavano i tubi questo è un quadro fu anche avvertita glielo disse Biden noi sappiamo come fare erano fatti perché tutta la strategia e qui la vediamo e lo ripetiamo per l'ennesima volta in ottica geopolitica perché quella che costituisce la base della politica estera del mondo anglosassone è ovviamente la geopolitica di Mack Kinder e anche se vogliamo di Schmidt cioè la terra contro il mare che è ineluttabile è ineluttabile allora essendo l'Europa un problema legato a questa visione geopolitica laddove e qui è bene tenerlo presente l'Unione Europea è una pedina dell'Occidente perché l'Unione Europea è stata voluta non per facilitare la liberazione dell'Europa ma per facilitare invece il controllo di tutti i paesi europei attraverso una classe dirigente ipoteticamente centrale la quale invece affacerò gli interessi dell'Occidente questi sono i punti essenziali che noi dobbiamo sottolineare chiaro? eh sì negli incontri ufficiali alla Nato i ministri americani evitano ostentatamente di stringere le mani dei loro colleghi tedeschi di ascoltarli quando parlano di riconoscerne la semplice presenza fisica si tratta di chiudere gli occhi e aspettare che Berlino cambi governo aspetto un minuto che qui devo chiudere è lì che è appunto che Berlino ha cambiato politica intanto come per la Francia c'è la realtà delle solide relazioni economiche tra i due paesi con in più la questione delle basi americane su territorio tedesco la minaccia sono parecchie anche lì sono parecchie anche lì ma è ovvio perché la strategia è una sola infatti la minaccia ventilata in più occasioni è di trasferirle nella nuova Europa Polonia Romania Bulgaria gli ex del patto di Varsavia fanno a gara a chi si fa avanti per primo e con maggiore entusiasmo sappiamo anche perché è ovvio no questi paesi ce l'hanno a morte alcuni per tradizione come la Polonia perché noi sappiamo quello che è successo durante la guerra civile russa combattuta dai generali bianchi ma soprattutto con la massima ferocia dai polacchi contro i russi infatti i polacchi si distinguono no sappiamo quanto alla Russia nei suoi confronti la linea è quella di perdonarli negli ultimi anni e dopo la famosa telefonata di Cordoglio a Bush per l'attacco terroristico bellissima questa no il presidente Putin ha dato molto ai suoi ex avversari la Russia ha fornito la sua esperienza di intelligence nella guerra afghana ha glissato sulla rinuncia unilaterale al trattato ABM ha assistito alla costruzione di basi americane ai confini con l'Asia infatti centrale e nulla ha potuto contro l'ingresso dei paesi baltici nella Nato questi sono concetti importantissimi quando la Russia alla fine è stata costretta a ribellarsi perché le pretese della Nato sono aumentate a dismisura in collegamento con i cedimenti della Russia allora nel mondo occidentale si è scatenata la bufera capito di accuse e contraaccuse di fake news e quant'altro ma la realtà è quella che c'è scritto qui è un libro del 2004 perché perché nelle condizioni economiche e politiche in cui Boris Elzin e i suoi Robert Barons hanno ridotto il paese non poteva fare altro che subire l'iniziativa americana la linea del perdone inoltre era cortamente suggerita da condolezza Reis in passato specialista dell'Unione Sovietica e in particolare del suo parato strategico militare la Russia ha subito senza darlo vedere perché con Putin ha riacquistato la consapevolezza di essere ancora una potenza nucleare con responsabilità politiche di un certo livello e siamo nel 2004 chiaro? certo è un gioco che per ora trova il suo limite in una economia e in una società che stanno appena cominciando a respirare dopo un decennio di distruzioni rapine e saccheggi delle ricchezze del paese e di anarchia e banditismo politico in tale quadro perdonare la Russia è significato di non spingere ulteriormente nel campo europeo tra le nostre braccia perché questo è il giochetto importante cercare in tutti i modi di coinvolgere l'Unione Europea in una contrasto nei confronti della Russia non basta colpire e limitare la geopolitica Russia ma bisogna far sì giornalmente che la classe dirigente diciamo pure pseudo dirigente dell'Unione Europea si accorga di essere un cuscinetto e una pedina nelle mani delle potenze occidentaliste chiaro il viaggio in Europa del maggio 2003 per partecipare al G8 prevede la visita del precedente Bush a San Pietroburgo per il trecentesimo anniversario della sua fondazione visita che sancisse il perdono e non manca la tappa a Cracovie dove i polacchi lo accorgono con festeggiamenti festosi facendosi sentire di essere traveri alleati ma questo è fuori discussione la Polonia non può che essere per tradizione nemica della Russia ma è l'unica è l'unica infine ecco il suo rapido passaggio a Evian dove i suoi consiglieri lo fanno muovere in modo così arrogante da rafforzare le più pessimistiche previsioni sulla sprezza del conflitto in corso tra Europa e America attenzione a questa frase perché evidentemente è successo qualcosa che ha interrotto il processo di indipendenza dell'Europa dall'America di cui ovviamente lo scontro in Ucraina è la conclusione perché la tendenza isolazionista dell'Europa c'era e potrebbe ripresentarsi con le prossime elezioni soltanto che il voto dei paesi europei più importanti giustificano questa atteggiamento perché se il voto invece è condizionato come a vecchie volte dalle politiche dei soliti tra cui questi tra cui questi la sinistra neoliberale se il voto ritorna a essere a garantire la sicurezza del neoliberismo di sinistra saranno dolori per tutti noi e questo è il primo aspetto tra le cose che dobbiamo leggere c'è un altro aspetto importante che bisogna conoscere ed è questo qui il discorso è molto chiaro l'autrice è una che la conosce la geopolitica e la salunga altra la situazione creata sia oggi nei paesi arabi e asiatici di fede musulmana perché la guerra preventiva all'Iraq ha regalato al fondamentalismo islamico l'opportunità di moltiplicare e diffondere il terrorismo importantissimo questo concetto che è lasciato completamente ignorato dai governi Bush e ovvero sia dei governi dei neocons che nella loro presunzione ritenevano che avrebbero sempre vinto ma quella dei neocons era e resta una presunzione di carattere religioso sappiamo chi erano e chi sono i neocons che andranno a spiantare sicuramente contro l'islamismo sia di carattere persiano che di carattere desertico e lo faranno e quando ci sarà una situazione di questo tipo la Turchia non potrebbe fare a meno di allearsi col mondo islamico pena un isolamento che la porterebbe alla fine come struttura unitaria già una volta la Turchia le ha prese infatti e le ha prese di brutto proprio perché alleandosi con gli imperi centrali europei aveva totalmente ignorato le esigenze degli arabi ecco perché la Turchia le ha prese e lì c'è stata la grande abilità dell'Inghilterra che si è avvalsa della collaborazione di personaggi di eccezionale valore come l'Ores d'Arabia il quale è riuscito a mettere assieme le tribù dell'Arabia contro la Turchia infatti e la Turchia non ha fatto niente per contrastare questa operazione è stata un'operazione esclusivamente dei servizi segreti inglesi la Turchia ha dovuto subire non ha dato nulla non ha fatto controproposte agli arabi infatti niente la Turchia si trova in un'altra posizione però ovviamente ovviamente siccome la Turchia è la guardiana dei Dardanelli e quando gli inglesi ci hanno provato lì hanno preso le botte infatti sappiamo ecco no qui ci sono delle cose che vanno sempre tenute presente quando la Turchia si è trovata in guerra contro la Russia Inghilterra e Francia e in subordine il Piemonte sono intervenuti a darle manforte contro lo Zar ma il discorso oggi è differente la Turchia non sarà mai contro la Russia perché ha imparato la lezione sì sì certamente sì ecco questi sono i punti su cui mi volevo soffermare ma proseguiamo questa lettura a dargli è stato il fondamentalismo neoconservatore che ispira la Casa Bianca e di Bush è stato il fondamentalismo neoconservatore di Bush che ha scatenato e ha messo l'Islam in condizione di trovare degli accordi di autodifesa evidentemente due fondamentalismi ambedue armati e con strategie di potenza e di odio sono troppi per un mondo solo uno dei due deve fare un passo indietro è l'America che deve tornare nelle mani del realismo pragmatico rimandando ai loro think tank e ai loro mass media gli intellettuali fondamentalisti questi gli intellettuali fondamentalisti questi rimasti per troppo tempo nelle stanze del potere a fare politiche la loro politica fa riferimento a una Pax americana che richiama fin troppo il passato europeo e non solo nell'espressione latina ostentatamente prescelta paradossalmente tanto grande è il disprezzo per l'Unione europea tanto maggiore è l'attrazione per le politiche di potenza degli stati in azione del nostro ottocento che è l'epoca della grande espansione colonialista anglosassone come l'Inghilterra e la Francia il Belgio l'Olanda nel 6-700 come la Spagna e il Portogallo nel 500 per bocca dei neoconservatori gli Stati Uniti del XXI secolo si sarebbero impegnati a costruire nazioni laddove ancora sopravvivono clan e tribù e dunque nei paesi arabi il modello di riferimento è l'esperienza fatta nel rimodellare la Germania del 1945 il paese che prima del tornado razzista aveva dato al mondo la costituzione di Weimar oltre che Hegel e Bismarck in The Unipolar Moment Revisited l'ex psichiatra Charles Krauthammer dopo essersi complimentato con se stesso per aver lanciato la politica unipolare nel 1990 preconizza un lungo futuro per un'America senza rivali che eserciti il suo dominio sulla scorta di un nuovo unilateralismo nuovo perché con Bush Junior sono state dismesse le ipocrisie liberal mentre senza remore è l'intento di intervenire contro i paesi ostili per preservare il primato serve istituzionalizzare l'unipolarity sulla base di organizzazioni internazionali nuove adatte a sostenere le strategie USA sulla base di organizzazioni internazionali nuove capito com'è questo è il ruolo dell'unione europea che serve per supportare il potere mondiale degli Stati Uniti tra le regole oggi necessarie per governare il mondo c'è speak vittorian think pagan e poi emula la Roma del secondo secolo che sarà molto difficile che sarà molto difficile Roma del secondo secolo aveva tante cose da dire questi non hanno proprio un cazzo da dire è andato in crisi oltretutto faccio vedere di nuovo questo libro importantissimo eccolo qua contro neoliberali si e beh questo i rio cosi pensano così i neo comunisti sono questi che già nasce la rivolta della sinistra vera autentica questa è un esponente di sinistra e questo diciamo che ci avvicina a le cose che stiamo dicendo alle speranze di emancipazione culturale e sociale dei movimenti progressisti i gruppi religiosi contrapposero la promessa della salvezza individuale da perseguire attraverso la moralità la preghiera e la lettura della Bibbia il nuovo risveglio cristiano degli Stati Uniti ha determinato una forte polarizzazione del sistema politico da una parte un'America secolare dall'altra quella del fondamentalismo religioso guarda che è importantissima questa considerazione ma queste due Americhe sono destinate a scontrarci e si scontreranno fra poco e noi sappiamo in quale forma l'alleanza tra politiche e chiese evangeliche ha garantito ai repubblicani una base elettorale formidabile un terzo dei cittadini iscritti ai registri elettorali appartiene a una chiesa evangelica e l'82% di essi ha votato per Bush adesso voterà per Trump la loro presenza la loro presenza influenza il dibattito pubblico e politico degli Stati Uniti e condiziona l'intera classe politica da alcuni anni a questa parte Dio partecipa a ogni tipo di campagna elettorale comprese quelle per le elezioni di giudici e sceriffi di giudici e sceriffi va bene teniamo la mente queste cose che sono piuttosto importanti questa è vera geopolitica capire le tendenze geopolitiche cioè di espansione dei vari paesi dei vari territori e capire le tendenze psico-religiose che spingono gli esseri umani contenuti in questi territori a esprimersi in un senso o nell'altro ma non è finito io voglio leggere un'altra cosa importante è questo qui è un concetto importantissimo che voglio leggere qui e questo è un libro che è stato stampato dico subito nel 2002 c'è un capitolo intitolato il ritorno della Russia ecco cosa significa ragionare saper ragionare in termini geopolitici gli Stati Uniti stanno per fallire il tentativo di dare il colpo di grazia alla Russia o più moderatamente di isolarla anche se continuano a comportarsi come se il vecchio avversario strategico non contasse più a volte umiliandolo altre volte affettando la condiscendenza che si deve a un moribondo e altre volte ancora combinando i due atteggiamenti e vedete i risultati che hanno avuto la Russia si è ribellata e colpisce pesantemente adesso ha colpito l'Ucraina perché è un paese che si presta per essere colpito è un paese che ha accettato di fare la parte del cuscinetto gli ucraini non si sono ribellati quando i servizi segreti americani hanno contrastato fino a rovesciarlo il legittimo governo e hanno messo un buffone un ballerino a capo di un governo fantoccio beh tutta l'Europa è piena di gentaglia lì si ma questo è stato più eclatante no? si si quello senza dubbio l'Ucraina avevano votato un'altra persona esatto e sai come le elezioni democratiche impongono anche queste cose qua alla fine di maggio 2002 George Bush proprio mentre alcuni suoi soldati si insediavano nel caucaso in Georgia ha percorso l'Europa parlando di cooperazione con la Russia già oh qui il discorso è chiaro la Russia si è immediatamente ribellata perché può farlo più spesso Washington prova un piacere evidente nel dimostrare al mondo che la Nato può essere allargata o che lo scudo spaziale americano può essere messo in cantiere senza l'accordo con Mosca no sostenere che la Russia non esiste vuol dire negare la realtà senza il suo aiuto attivo l'esercito americano non avrebbe potuto neanche mettere piede in Afghanistan il micromilitarismo teatrale però esige quell'atteggiamento bisogna simulare l'impero e bisogna farlo ancora con più forza nell'istante in cui l'America si pone in una situazione di dipendenza tattica dalla Russia guardate quanto è importante questo aspetto dovrei dire se la geopolitica statunitense è legata alla dipendenza tattica dalla Russia significa che la ribellione della Russia porterà inevitabilmente a un ridimensionamento della politica americana in Europa sicuramente di fronte alla questione russa la strategia americana aveva due obiettivi il primo non è già più accessibile e il secondo appare sempre più difficile da raggiungere questa gente che conosce le cose se noi di fronte a queste frasi vediamo la massa di idioti belanti che è costituita dai giornalisti italiani sia dei giornali che delle televisioni ci rendiamo conto di una inevitabile caduta di intelligenza globale e collettiva nel nostro paese primo obiettivo la disintegrazione della Russia che poteva essere accelerata stimolando gli indipendentismi nel Caucaso e con la presenza militare americana in Asia centrale quelle dimostrazioni di forza dovevano incoraggiare le tendenze provinciali centrifughe proprio all'interno della parte etnicamente russa della federazione ma ciò voleva dire sottovalutare gravemente la coesione nazionale russa questa c'è scritto all'inizio del 2000 cioè 25 anni fa la coesione nazionale russa è stata dimostrata dal voto collettivo che i russi hanno dato a Putin è chiaro qui c'è ovviamente una serie di cose da dire ma quello che era più interessante dire è quello che ho letto bene che riguarda l'universalismo russo ma ci sono altre cose che vanno dette comunque ed è questo per far capire quali sono le reali strategie e come e in che modo il giornalismo italiano costituito da teste di cazzo che quando qualcuno comincerà a prendere a calci in culo avranno l'unico desiderio di andare a mettere la testa in qualche cesso e vabbè dal grande scacchiere diplomatico il progetto di Brezinski è chiaro e conciso nonostante suggerisca la necessità di dare il colpo di grazia alla Russia questo era le strategie che si dovevano conoscere per il suo stesso bene annettendo l'Ucraina all'Occidente e utilizzando l'Uzbekistan per sottrare l'Asia centrale alla sua sfera di influenza questa è la strategia geopolitica di Brezinski che è autentica è vero e non rivela neppure che l'accerchiamento della Russia deve condurre alla disgregazione del cuore del paese ecco anche qui la ragione per cui la Russia è costretta a reagire ma siccome chi reagisce e ha la forza di reagire ha la forza sufficiente per dare il colpo di grazia a chi crede di poter comandare nel mondo succederà che la vittoria della Russia che cercano in tutti i modi di ritardare comporterà lo sgrettolamento naturale del potere anglosassone questione che sarà sicuramente ritardata dall'atteggiamento pacifista di Trump il quale si riuscirà solo a ritardare lo sgrettolamento di questo di questo progetto di accerchiamento l'alta strategia non esclude un minimo di prudenza diplomatica ma c'è qualcosa di ancora più inconfessabile Brezinski non evoca l'inefficacia dell'economia americana e la necessità per gli Stati Uniti di assicurarsi politicamente e militarmente il controllo sulle ricchezze del mondo infatti la sua cultura geopolitica lo porta tuttavia a formulare quella motivazione essenziale in maniera indiretta in primo luogo sottolineando che l'essenziale della popolazione dell'attività mondiale si trova in Eurasia in secondo luogo constatando che l'America è lontana dall'Eurasia decifriamo i flussi di merci e di denaro indispensabili al mantenimento del livello di vita dell'America delle classi superiori come della pleve provengono dall'Eurasia c'è qualcosa altro da aggiungere no direi di no almeno perché più senti così non potevi essere diciamo infatti tante cose sono confermato quello che dici tante cose poi sono tante retroscene che ancora non sappiamo di quello che accade segretamente tra Russia Israele Russia Stati Uniti e anche la Cina direi c'è tante cose qui che si muovono e di cui non sempre si riesce a raccogliere il segno se non dopo un lungo ragionamento di quello che conviene a un paese fare o non fare c'è questo anche da dire però finisco questa lettura prego oltre che il cuore strategico Brezinski raccomanda anche un atteggiamento conciliante verso la Cina ah ecco la cui eventuale rivalità costituisce un problema soltanto a lungo termine e verso l'Iran la cui probabile evoluzione non porta al confronto in effetti la Russia stretta fra Europa e Giappone separata dalla Cina e dall'Iran perderebbe ogni possibilità d'azione in Eurasia è chiaro il quadro sì certo il quadro va visto ovviamente lo ripeto per l'ennesima volta nell'ottica del gioco del go e non nell'ottica degli scacchi perché gli scacchi non vedichiamo che la Cina ha investito molto in Siberia è ovvio no è naturale ma tutto questo frastuono come abbiamo già detto altre volte è legato al fatto che c'è un accordo sostanziale per finalmente lo sfruttamento di quell'immenso territorio che la Siberia e che non era mai stato sfruttato essendo stato utilizzato solo per mandarci gli avversari politici i quali ovviamente non facevano niente certo nemmeno si erano stati condannati ai lavori forzati non facevano un cazzo e mi pare anche ovvio e vorrei leggere un'altra cosa importante che è qui quest'altro testo banche armate alla guerra e beh è quello che fanno e beh appunto è qui c'è scritto siamo a posto gli affari sporchi vicini nelle posizioni di comando abbiamo uomini che muovono i più grandi flussi di capitali di tutta la storia le loro imprese speculative o no vivono in intima simbiosi con il governo basti pensare l'attuale vicepresidente Dick Gini che fino al giorno prima di insediarsi alla Casa Bianca dirigeva la Alliburton la cui principale affiliata la Brown e Ruth ha vinto persino l'appalto per costruire i lager di Guantanamo vedi che tutti i conti ritornano quando noi facciamo riferimento al primo triunfirato lì c'era però qualcosa di sostanzialmente differente i membri del triunfirato e soprattutto Crasso che corrispondeva a Cinei ci mettevano la faccia e combattevano in proprio di tal che Crasso è andato a morire combattendo questi invece mandano a morire gli altri e questa è una differenza sostanziale Cinei era già stato ministro della difesa Stotto Bush padre la Alliburton ebbe i primi grandi contatti con l'amministrazione pochi giorni dopo che aveva lasciato l'incarico questo per dire e per far capire qual è la logica che sottintende il potere statunitese infatti e qui abbiamo un'ultima cosa che bisogna conoscere comunque conosce però non si capisce niente e le associazioni di idee non si capiscono no i mercati della cocaina e dell'oroina hanno il valore aggiunto dell'alta redditività più delle armi infatti aggiungere questa considerazione il mercato delle armi ha infatti un fatturato complessivo molto più alto di quello delle droghe ma il mercato delle droghe presenta margini di profitto infinitamente più alti direi di sì ecco perché la lotta contro il mercato delle droghe non perché il mercato delle droghe riduce in male chi le utilizza ma perché contrasta il mercato delle armi sono i mercanti di armi che combattono i mercanti delle droghe è proprio così e allora andiamo a vedere che nelle guerre quello che conta di più è il mercato delle armi direi di sì è il vero business come ben sa che fanno sempre le banche come ben sa papa francesco il quale a un certo punto ma con molto ritardo è stato costretto a prendere la parola in difesa del popolo che è massacrato dal potere ebraico no? del popolo palestinese ma ci ha aspettato un po' prima di parlare infatti no hai detto hai detto bene Giorgio perché in effetti il papa poi se ne è accorto dopo capito? c'è tanta ipocrisia purtroppo anche da parte del Vaticano per quanto riguarda la causa palestinese insomma è tutta una messa in scena una presa in giro perché e queste cose è quello che noi dobbiamo dire un vero papa avrebbe fatto bene in alto questo invece è entrato molto ben alto invece non l'hanno fatto ma poi sono gesuite quindi sappiamo chi è appunto io sono fatto così che in molte crisi di guerra i due mercati viaggiassero parallelamente per esempio le triangolazioni che si facevano sull'Adriatico tra il 1993 e il 1995 non è vero che si scambiavano armi con droga in realtà i grossi canali dell'eroina che giungevano dalla Turchia terra di raffinazione verso l'Europa aprivano delle relazioni tra paesi e dei canali su cui passavano anche le armi però queste armi andavano a fazioni non sempre in grado di pagarle così l'ingrosso dell'eroina giungeva insieme alle armi a fazioni che si prendevano l'incarico di trasformare l'ingrosso in dettaglio gestendo gli ultimi livelli del mercato e realizzando così quei margini di profitto straordinario che permettevano loro di pagare le armi questa coinvolta eserciti e stati nel mercato criminale è dell'esempio della mafia del Kosovo la mafia del Kosovo è stata utilizzata dagli occidentali e soprattutto dagli italiani dal governo di Baffino che è intervenuto per utilizzare la mafia del Kosovo che per anni ha dovuto svolgere questo tipo di lavoro prima di organizzarsi anche come soggetto fiancheggiatore di formazioni militari a loro volta profondamente condizionate dal mercato criminale e illegale dunque non basta dire che la droga è il canale di finanziamento delle parti in armi è un elemento strutturale e sostanziale dell'economia di guerra internazionale siccome vuole dimostrare Afghanistan va bene Giorgio allora terminiamo qui questa e questo spiega la guerra contro Saddam Hussein ad esempio l'Iran Contras o il colonnello Oliver North eccetera mi ricordo tutti quegli scandali degli anni 90 questo è l'intreccio tra i mercati delle armi e della droga con la geopolitica esatto esattamente esattamente leggo un'ultima frase tratta da un uomo e poi la chiudiamo lo spostamento diretto degli Stati Uniti dagli Stati Uniti del presidente iracheno Saddam Hussein potrebbe aprire un filone d'oro per le compagnie petrolifere americane a lungo bandite dall'Iraq ecco la guerra contro il criminale Saddam Hussein è lì facendo naufragare gli accordi petroliferi conclusi con Baghdad dalla Russia Francia e altri paesi e provocando un rimescolamento dei mercati petroliferi mondiali questo è la vera ragione della guerra scatenata dagli Stati Uniti contro Saddam Hussein guerra che ha provocato un numero infinito di morti nella società civile certo buona bene Giorgio allora teniamo qui questa questa puntata presto parliamo parliamo di un'altra probabilmente forse arriverà arriverà anche Bucciarelli dovremmo anche parlare la volta prossima dobbiamo anche parlare di questo qui è spiegato tutto alla perfezione ecco è bene adesso vorrei rispondere alla signora Silvania Tucciarone che ci dice mi dice Ubaldo ma perché non è andata su altri canali per far sapere questa cosa a più persone è molto semplice più canali non vogliono farle sapere è evidente io stesso cercando di fare qualcosa per ingrandire questo questo canale per poi diventare qualcosa di veramente professionale fatto come ci devo ho fatto appello a chi può farlo a chi ha mezzi per fare e tante cose veramente interessanti mi dico di sì poi scappano tutti quindi sono stanco non so che dire non so cosa dire perché senza aiuto io non posso fare di più di quello che sto facendo anzi devo un'altra conciliare impegni di lavoro con altre cose per fare questi video ma è chiaro che questi temi che noi dibattiamo qua non li dibatta nessuno se non fino a un certo punto e non fino in fondo lo facciamo noi meriterebbe un pubblico molto molto più vasto ma ci vuole qualcuno che prenda a cuore questa causa venga con me gli faccio vedere cosa che ho eccetera gli faccio vedere che io avrei fatto una Ferrari ma manca la benzina per farla andare se qualcuno non ci vuole dare la benzina per farla andare la Ferrari la Ferrari va e sarebbe un grande successo visto le innovazioni che ci ho messo è l'idea che ci ho messo dentro di cui tutti quelli che ho chiesto hanno provato va bene però nessuno fa niente e questo è il paradosso dell'Italia è in un paese sempre inerme sempre statico e si muove solo se qualcuno li prende a caccia in sedere altrimenti non succede nulla questa è la realtà cara signora mi chiamo Silvana sì Silvana Silvana sì adesso ho proposto ho pazienza comunque signora Silvana questa è la realtà delle cose ma purtroppo più di così io non riesco a fare e c'è qualcuno che intervenga e faccia qualcosa attualmente non c'è un punto di belle promesse e anche un altro e poi quando alla fine si tratta di fare si vede un blocco non so sembra come se qualcuno gli messe mal di pancia che ne so cioè la signora appunto Silvania Tucciarona scusa ecco questa è la risposta che devo dare ma non tanto da lei ma quanto a tutti quelli che mi ascoltano la realtà è questa qui bisognerebbe fare qualcosa perché ormai abbiamo la morte al collo ma si continua per finta di niente e allora io non so cosa fare non proprio non lo so perché quando uno tende a suicidio e vuole suicidarsi e tutto lascia andare non so veramente non so ed è triste provare quello che provo io ma che non ho nessuno di provare perché è una questione veramente molto molto brutta ci ho detto caro Giorgio ti ringrazio per concludo aspetta concludo con un'altra cosa è la pena di leggerla adesso questo libro qui una frase importante per gli specialisti di analisi strategica la fedeltà dell'America a Israele costituisce un autentico mistero mica tanto no 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 questa è la ragione per cui Israele sarà definitivamente mollato dall'America e si troveranno lì con le braghe per terra sarebbe ora ma non dimenticarti che Israele ha 200 che le può usare hanno già un piano che viene chiamato opzione sanzone questo momento escatologico eh sì eh sì purtroppo va bene caro Giorgio siamo qui grazie a voi da casa del seguito grazie fin qui vi saluto grazie a tutti voi ciao Giovanni ciao Silvania e Gennaro il punitore Filippo Neri eccetera 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 a presto e fatemi bene alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti